Ciao, ben ritrovati a tutti con il nostro secondo appuntamento delle mappe territoriali di Hongzong Su. Oggi volevo presentare la mappa dell'est e la mappa del nord, che sono le due mappe territoriali che ancora mancavano all'appello. E vi ricordo brevemente, un po' riallacciandoci al discorso che abbiamo fatto l'altra volta, che la zona dell'est, nella Cina di allora, è la zona costiera, quindi legata al mare, all'acqua, alle attività marittime e anche la zona delle risaie. Quindi, a maggior ragione, zona legata all'acqua, all'umidità e oltre all'umidità sono zone spesso sferzate dal vento, da questi venti forti che arrivano da est, questi tifoni. Quindi le popolazioni che vivevano in questa zona avevano a che fare molto spesso con questi patogeni esterni, in particolar modo il vento e l'umidità. Dopo vedremo nel dettaglio. Invece la zona del nord della Cina è la zona delle steppe, delle fredde steppe del nord, dove abitano queste popolazioni nomadi di costituzione robusta, persone dure. E anche qui vedremo in dettaglio quando analizzeremo la mappa. Bene, volevo condividere con voi lo schermo per iniziare subito a vedere un po' com'è questa mappa dell'est. Abbiate pazienza che vi condivido lo schermo. Ecco qua la nostra mappa dell'est. Allora, ringraziamo sempre la nostra collega ed esperta di On Zone su Silvia, che ci ha disegnato queste bellissime mappe. E allora, mappa dell'est e i patogeni esterni. Sul fatto dei patogeni esterni, come vi dicevo, abbiamo già speso alcune parole, e possiamo dire che in effetti Maxi, viaggiando per queste zone, si trovò spesso, probabilmente, si trovò spesso persone afflitte da questi patogeni esterni. Vedete che questa mappa è piuttosto articolata. Possiamo dividere il piede in tre zone principali. La prima zona, che è la parte centrale del piede, eccola qua, dove abbiamo una parte del corpo, quindi il naso, la gola, il petto, la pancia, e poi abbiamo organi, lo stomaco, visceri, la milza, gli intestini e così via. Poi abbiamo una seconda parte che corrisponde all'addome, all'addome inferiore. Quello che in medicina cinese viene chiamato Bao, in modo particolare. E ricordo, peraltro, che il Bao non lo hanno solo le donne, ma anche gli uomini. Anche se nelle donne si tratta abbastanza spesso, ed è anche abbastanza spesso colpito, perché il Bao delle donne è un po' più ricco, diciamo. Dopo vediamo in dettaglio. E poi abbiamo la terza zona del piede, che è quella che corrisponde al cuscinetto del piede, alle dita, che è la zona delle articolazioni e della testa, insieme alla parte laterale esterna del piede, dove abbiamo la colonna. Allora, facciamo un passo indietro e abbiamo visto prima che questa è la mappa dei patogeni esterni, cioè questa mappa tratta molto bene quello che da fuori attacca il nostro corpo, quindi patogeni esterni, in modo particolare il freddo, il vento, scusate, e l'umidità, in tutte le loro combinazioni. Quindi il vento si può combinare con il freddo, ma si può anche combinare con il calore, e l'umidità, stessa cosa, si può combinare con il freddo, si può combinare con il calore, e danno nel corpo delle patologie particolari, dei dolori particolari, quindi nel freddo avremo dei dolori irradiati, oppure dei dolori che si spostano, delle rigidità, delle parestesie, così come nell'umidità avremo dei dolori fissi, sordi, un dolore pesante, come se avessimo una parte del corpo impastata. Questa mappa è molto efficace nel trattare questi patogeni, e non solo, ma è anche molto efficace nel trattare proprio l'immediata entrata dei patogeni. Quindi quando veniamo attaccati da qualcosa dall'esterno, se facciamo questa mappa ci aiuta proprio a buttare fuori, quindi attiva qualcosa nel corpo che aiuta a buttare fuori il patogeno. E come abbiamo visto è una mappa piuttosto articolata, però il metodo di trattamento è piuttosto semplice, perché viene fatta tutta quanta con un dito, con il pollice, con questa tecnica che si chiama Ijechen, che vorrebbe dire proprio un dito Chen. Chen si rifà al buddismo Chen, che è quello che poi in Giappone diventerà il buddismo Zen. E viene fatta tutta in dispersione, perché? Perché dobbiamo buttare fuori dei patogeni. La mappa la facciamo tutta, ma ovviamente ci concentriamo sulla zona che più ci interessa. Quindi se ad esempio abbiamo preso freddo, quindi un patogeno appena entrato nel nostro corpo, la parte che ci interessa di più è la prima parte, quella che ci aiuta proprio a buttare fuori quello che è entrato. Se questo patogeno si è andato a installare nel nostro bow, nel nostro addome, allora ci concentreremo di più sulla seconda parte. Se invece questi patogeni sono entrati, magari anche già da tempo, e sono andati ad installarsi nelle articolazioni, allora tratteremo più a lungo la terza parte, che è quella in alto. Vedete che nella prima parte del piede abbiamo proprio quella centrale, abbiamo proprio un circuito che noi facciamo, no? Perché? Perché questi patogeni possono entrare dallo yang min del viso oppure dal tai yang. e facendo questo percorso in cui noi andiamo a stimolare queste zone per buttare fuori queste patogeni, no? Proprio li andiamo a prendere e c'è questo percorso particolare. Quindi si parte dal naso e dalla gola, per poi arrivare al petto, alla pancia, e poi ci apriamo su organi viceri, quindi stomaco, milza, intestini, e così via. Fino a trattare tutta la zona degli organi. La seconda parte, come vi dicevo, è quella invece del BAO, e questa è molto utile, viene chiamata anche in questa mappa servizio di donna. Perché? Perché spesso le donne hanno disturbi del BAO, e spesso nel BAO abbiamo la presenza di patogeni, soprattutto umidità, no? Che è pesante, va verso il basso, quindi si può installare nel BAO. Ecco, questo trattamento è molto utile per questi disturbi, per le donne, soprattutto per le donne, non solo, ma soprattutto per le donne. Così come è molto utile anche la parte delle articolazioni. Abbiamo visto la colonna sulla parte laterale del piede esterna, e sul cuscinetto del piede, sulle dita. Abbiamo le grandi articolazioni sul cuscinetto, le piccole articolazioni, mano, piede, polso, caviglia, e poi la testa sulle dita. Ecco, anche questo è piuttosto efficace, soprattutto su alcuni tipi di dolore al ginocchio. Quello che vi volevo far presente è questo, ricordiamoci che noi, quando trattiamo in un zoom su, prima dobbiamo sempre fare la valutazione energetica. Noi abbiamo la nostra mappa dei nove cieli che ci aiuta a fare una valutazione energetica molto particolare. Poiché se ci troviamo di fronte a una persona che ha dolore al ginocchio perché ad esempio gli è venuta una vescica, ha camminato male, ha appoggiato male il piede, ha appoggiato male e di conseguenza il ginocchio, gli si è un po' infiammato e gli fa un po' male, beh, verosimilmente lo tratteremo non con questa mappa, ma ad esempio con la mappa del paesaggio esterno. Se invece abbiamo una persona che ha un dolore al ginocchio, magari da un po' di tempo, e che ogni volta che cambia il tempo o che viene freddo questo dolore peggiora, ecco, allora qui probabilmente abbiamo un patogeno esterno che si è installato a livello dell'articolazione, quindi sarà utile, sarà molto utile utilizzare questa mappa. Quindi ricordiamoci di fare sempre la valutazione. Per me questa è una mappa molto utile e che mi piace molto, che usa anche tanto. Passiamo poi alla seconda mappa che vi volevo presentare, una mappa un po' particolare, che è la mappa del nord. Allora, dicevamo all'inizio di questo video che è la mappa delle caratteristiche che veniva usata per le persone che abitavano al nord in queste steppe, persone con i piedi molto duri, persone con una costituzione robusta, con un'alimentazione anche molto particolare, erano nomadi, abituati a questa vita nomade, in modo particolare si nutrivano di latticini, di carne, di latticini. E proprio il fatto della durezza caratterizza un po' tutta questa mappa. Allora, innanzitutto possiamo vedere che è una mappa molto particolare perché abbiamo la testa, in particolar modo più che testa direi, gli orifizi, ma che comunque non è la nostra testa, sul tallone, mentre l'estremità e la parte bassa dell'addome l'abbiamo sulla parte alta del piede. Quindi questa è una cosa già particolare perché nelle altre mappe dell'on zon su in realtà non è così. La testa è nella parte alta del piede, quindi le dita, il cuscinetto, mentre nel tallone abbiamo la parte bassa del corpo, del tronco. Quindi già questo ci dice che è una mappa fatta al contrario, un po' come il feto quando sta per nascere. L'altra cosa particolare è che questa mappa sul piede è fatta come una matrice che viene chiamata quadrato magico. Il quadrato magico è questo metodo con cui nell'antica Cina si analizzavano delle cose, si studiavano delle cose a cui si faceva riferimento e tradizionalmente si pensa che questo quadrato magico sia comparso in epoca molto antica. Alcuni dicono più o meno nello stesso periodo in cui è comparso anche Li Jing. E secondo la tradizione, secondo la leggenda, è stato donato agli uomini e all'umanità da questa tartaruga magica che è emersa dal fiume Lò e sul carapace della tartaruga era proprio disegnato il quadrato magico. Chiaramente non con i numeri scritti ma con dei pallini, e da lì viene questo quadrato magico che è stato visto, questa tartaruga è stata vista da Yu, da Yu il grande, e poi è entrata a far parte dell'uso, diciamo, nella filosofia, nella medicina cinese. Quindi questa mappa ha dei collegamenti molto particolari e è una mappa che viene usata in casi specifici. Prima di tutto nel caso in cui noi abbiamo a che fare con dei piedi molto duri, materialmente duri. Cioè se una persona ha la parte sotto del piede proprio dura perché magari è abituata a camminare scalza, come ad esempio, non so, alcuni immigrati, allora il piede difficilmente risponderà e quindi in questo caso usiamo questa mappa perché è proprio fatta per piedi duri, ma fisicamente duri. Però sappiamo che la medicina cinese è meravigliosa, no? Perché analizza le cose sempre su più piani. Quindi questa durezza non è solo a livello fisico o meglio è anche a livello fisico. Ma andiamo un po' più in là e cioè può corrispondere anche a un piede che non risponde ad altri trattamenti. Magari abbiamo trattato la persona più volte con diverse mappe, questa persona non ha mai risposto, magari perché ha una corazza, magari per diversi motivi. E quindi abbiamo qualcosa, abbiamo bisogno di qualcosa di molto forte, di più impattante. In questo caso possiamo provare a fare la mappa del nord. ma la durezza sta anche, può anche stare a significare disarmonie molto difficili da trattare. Infatti una delle cose più complicate diciamo da trattare nella medicina cinese è il deficit di yin, in modo particolare il deficit di yin di rene. Uno degli utilizzi di questa mappa è proprio per questo. e come ultima cosa questa mappa può essere di aiuto per il lavoro alchemico su di sé. Quindi se la persona ha raggiunto un certo grado di consapevolezza e di coltivazione può utilizzare questa mappa come un aiuto in più per diciamo aumentare sempre di più la propria consapevolezza. potremmo anche dire per aprire gli orifizi. Infatti questa mappa lavora molto bene sugli orifizi ma non aprirli normalmente come una persona che è svenuta quindi che ha perso conoscenza abbiamo bisogno di rianimarla. Per quello in realtà abbiamo già un'altra mappa che funziona molto bene. Quegli orifizi sono intesi anche in modo più sottile. Quindi vedere magari quello che normalmente non si vede sentire quello che normalmente non si sente. Quindi vediamo che è una mappa particolare una mappa che va trattata con molto rispetto anche perché viene detto che questa mappa è un po' come il vento della steppa un vento molto forte che spazza via tutto e quindi questo cosa significa? Significa che non sempre può portare quello che noi ci aspettiamo. quando un vento molto forte arriva crea una grande confusione quindi all'inizio gli effetti che noi vediamo potrebbero essere anche molto diversi da quelli che speriamo da quelli che ci aspettiamo perché questo vento cosa fa? Muove tutto molto fortemente spazza via tutto per poi dare la possibilità di rinascere di ricostruire però ribadisco non sempre prima la persona è pronta ad accettare una cosa del genere e l'altra cosa è che non sempre i risultati magari sono quelli sperati io personalmente questa mappa non la uso molto l'ho usata solo su una persona che conosco molto bene e perché è una mappa particolare insisto va trattata con rispetto anche perché oltretutto è una mappa che va fatta in modo piuttosto incisivo è una mappa forte non abbiamo parlato di durezza che deve entrare profondamente come questo vento della steppa e quindi spesso viene usato un oggetto per riuscire ad entrare profondamente va fatta proprio in modo molto profondo ed incisivo che può essere doloroso e quindi non tutti possono essere pronti a ricevere una cosa del genere bene spero con questo direi che chiudiamo il nostro discorso sulle mappe territoriali di Maxi e mando tutti un saluto sperando di poterci rivedere presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti